Ragazzi buonasera a tutti e benvenuti a andare sul canale di FutureGamer Mancano solo 2 giorni, 6 ore, 19 minuti e 0 secondi ragazzi Vi aspetto qui tra la notte tra il 19 e il 20 Ho pubblicato anche l'ultimo video di God of War, andatela a guardare Ragazzi mi raccomando Mega Live, vi aspetto in tanti Ciao e buona giornata da FutureGamer